I numeri, possiamo dirlo con la relativa prudenza, ma anche con chiarezza, sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi, infatti, non segnalano situazioni critiche né segnalano situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. Il trend dei nuovi casi diagnosticati è in costante diminuzione in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Questo naturalmente ci conforta, dimostra che la strategia adottata passo dopo passo in tutte queste settimane è stata ed è quella giusta e ci dà fiducia anche in vista delle decisioni che saremo chiamati ad adottare nelle prossime settimane. Ma è bene ricordare sempre che se ci ritroviamo adesso in questa condizione, se siamo tra i primi Paesi europei che può permettersi di riavvirare le riprese e le attività varie economiche e sociali in condizioni di sicurezza, è perché abbiamo accettato, tutti insieme, di compiere dei sacrifici. Abbiamo accettato, tutti insieme, responsabilmente, di modificare le nostre radicate abitudini di vita. Dico solo, facciamo attenzione. Le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano, ovviamente, ad essere registrati quotidianamente. La Commissione europea, grazie anche all'aiuto dell'Italia, al sostegno dell'Italia, possiamo dirlo con forza, ha messo sul tavolo una proposta da 750 miliardi con il Recovery Fund che renderà disponibili quindi risorse ben consistenti, inviate il tutto straordinarie, soprattutto a favore dei paesi e dei settori più colpiti, tra cui l'Italia. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. Dobbiamo essere consapevoli che la somma che ci viene messa a disposizione, la somma che l'Europa metterà a disposizione dell'Italia, non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, il governo in carica. Questa somma deve essere intesa come una risorsa messa a disposizione dell'intero paese. Ebbene, le nostre infrastrutture, queste materiali, hanno ancora un lungo percorso da realizzare. Dobbiamo lavorare all'alta velocità di rete. Noi dobbiamo realizzare, per esempio, la doppia linea, da Pescara a Lecce. Dobbiamo realizzare l'alta velocità in tutta la Sicilia. Dobbiamo realizzare l'alta velocità da Roma a Pescara, da Reggio Calabria a Taranto, lungo la costa Ionica. Non voglio declamare delle opere immaginifiche. Io non a caso ho parlato di una rete infrastrutturale, materiale, viaria, che è inaccettabile. Ho parlato di un collegamento, ad esempio, della Basilicata, la costa Ionica, che è priva di reale collegamento. Ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da pescare a Bari e a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità, che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare. Roma a Pescara. È impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Quando tutto questo faremo, quando ci metteremo un tavolo, e quindi già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti, mi siederò un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il ponte sullo stretto.